L'ex atleta sudafricano Oscar Pistorius è stato condannato a 5 anni di carcere dal tribunale di Johannesburg per l'omicidio della fidanzata. La decisione del giudice Massiva ha trovato soddisfatta la famiglia della vittima che non farà appello. Inoltre allo stesso imputato gli sono stati dati 3 anni per porto abusivo di armi, sospesa la pena e nessun avvitamento ai servizi sociali.